C'è un concetto che secondo me è importante di questi tempi affermare, che è quello di ostinazione civile, cioè della profonda determinazione al farsi carico della condizione della nostra società, al farsi carico al di fuori di un dovere propriamente politico e anzi al pretendere da tutti, soprattutto da chi vive la politica semplicemente come delega, che il suo ruolo politico è un ruolo che si sviluppa nella dimensione civica quotidiana. Per ostinazione civica io intendo un po' di rigore da questo punto di vista e guardate che è declinato all'ennesima potenza nel nostro paese da tantissime persone, tantissime persone che hanno rigore, che non è essere codini, è semplicemente essere consapevoli del proprio ruolo, del proprio ruolo civico e avere le spalle grosse per potersi affermare e per poter pretendere di svolgere il proprio ruolo civico.